E' venuta a mancare una delle prime colonne dell'ippodromo del Mediterraneo. Sì, perché il signor Gaetano Mazzarella, padre dell'attuale presidente dell'impianto ippico siracusano Concetto Mazzarella, ha creduto, affiancato, sostenuto e incentivato una struttura nata in un luogo di grande passione. Classe 1927, seguendo le orme del padre, intuisce nuove vie per la lavorazione e commercializzazione delle carni, crea un'industria nel siracusano con sede a Floridia. Stimolo imprenditoriale affianca il compianto ragionier Francesco Faraci e il giovane figlio Concetto, nell'idea che una struttura ippica per il galoppo e il trotto possa raccogliere l'entusiasmo per il cavallo fortemente vissuto nel suo amato territorio. Uomo di grande tempra e determinazione, intuisce e sostiene fianco a fianco l'opera di chi intraprende un grande e ambizioso progetto che farà dell'ippodromo di Siracusa al Tempio del Galoppo Siciliano. Lui che ha voluto sottolineare fin dagli albori della nascita della struttura che essa doveva mirare per servizi e qualità ad essere una perla del Mediterraneo. Pochi ci credevano a questa riuscita, ma molti ci credevamo, abbiamo investito e abbiamo avuto le nostre soddisfazioni con una giornata come questa. Ma ancora non abbiamo finito, perché è da completare quest'opera e siamo orgogliosi di dire che sarà la più grande opera d'Europa. L'ultimo saluto domani martedì 5 luglio alle ore 10.30 in Chiesa Madre Floridia.